E' stata posta questa come una tragedia importante, no? Bello vedere tutti i paesi in via di sviluppo, anche il nostro, no? Abbiamo il più alto di Francia, Germania, il più alto d'Europa, tra un po' supereremmo tra un po' anche gli Stati Uniti, vabbè, poi vedremo, vabbè, ma non credo. Comunque, la tragedia in Toscana te la va a rivelare Matteo Renzi. Ora, lui dice, no, guardate che io non ce l'ho mica una melore, cioè, chiariamo sempre una cosa, è una cosa politica, non è personale, non la conosco fino a quel punto. La conosco, è giusto, per dimmi sta simpatica, antipatica, ma non c'entra niente. Per me questo governo è un disastro. Vorrei rientrare nel campo largo, vabbè, stiamo pure, vorrei rientrarci, l'altri 6% di iscritti e attivate la camparella per ogni aggiornamento. Brava, 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 bravi, boffina. Allora, quindi, dice Renzi, che però è venuto a sapere che nella sua Toscana, una cosa che ha fatto abberrare anche la melore, perché si parla anche di Starlink, no? Stanno una rete, internet, con Elon Musk, di Elon Musk, finanziata da lui, con SpaceX, la sua azienda privata, eccetera, eccetera, ci sarebbe, ci sarebbe, c'è stata una denuncia pagata, uno studio, una ricerca pagando 230.000 euro delle tasse italiane, delle tasse dei toscani, per la ricerca se il 5G fa male. Ma come? Proprio nel periodo che Musk e Meloni stanno accordando, stanno vedendo, periodo, eh? 230.000 euro, mettiamo sti soldi, il 5G fa male. Ma che propaganda è? Ma che propaganda è? Cioè hanno investito soldi di persone, non sulla ricerca contro i tumori, non sulla ricerca contro il cancro, non posso dire esatta parola, tu non me lo concede, chiedo scusa, però avete capito che malattia, non sulla ricerca di malattie, bambine, bambini, autismo, no? Il 5G fa male? 230.000 euro, investiamo sulla ricerca se il 5G fa male. Ha detto Renzi, quella menona che... Ma veramente state facendo? Ma veramente avete fatto? Avete speso questi soldi? È tragica la cosa?